Si tinge di giallo l'episodio che ieri ha visto coinvolto il presidente della regione molise Donato Toma e Maurizio Tiberio, suo stretto collaboratore, finito col setto nasale rotto al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso e con dieci giorni di prognosi. A parlare attraverso un post reso pubblico su Facebook è il presunto aggressore di Tiberio, Antonio Grosso. Facciamo un po' di chiarezza, scrive Grosso. Oggi è avvenuto un grave evento di violenza nei miei confronti da parte del consigliere regionale Tiberio. Grosso era in compagnia di un'altra persona che sempre secondo quanto scritto su Facebook avrebbe pronunciato delle parole che Grosso non specifica nel contenuto e nel destinatario. Sta di fatto che sempre secondo la ricostruzione fornita da Grosso sarebbe stato Tiberio a inveire nei suoi confronti avvicinandosi minacciosamente fino ad arrivare ad un testa a testa. Tiberio ha iniziato a picchiarmi, dice Grosso, e poi ha chiamato la polizia. E questa quindi la ricostruzione fatta da uno dei due protagonisti dell'episodio avvenuto in pieno centro dopo le 14 mentre Toma e Tiberio si trovavano a pranzo. Diversa la ricostruzione fornita dal presidente Toma nel corso della trasmissione ingresso libero. Io e il mio collaboratore Tiberio prima di partire per Termoli che avevamo la prima azione del Giro d'Italia ci siamo fermati fuori sotto un gazebo a mangiare un boccone a volo mentre stavamo mangiando tranquillamente due giovanotti correndo e rivolgendosi a me e mi hanno riversato una serie di irripetibili insulti. Due passanti che a un certo punto hanno accelerato il passo quando stavano per arrivare vicino al gazebo e poi ci siamo visti sulla sinistra sul marciapiede che hanno cominciato a sputare fuori insulti irripetibili cose e sono corsi verso via Roma hanno girato l'angolo io dal lato della libreria o da quest'altro lato? Dal lato della libreria. Quindi risalivano via Roma. Esatto penso fossero scappati a un certo punto il mio collaboratore si alza per vedere chi erano e io mi alzo dietro di lui per capire se la questione era finita lì o meno a questo punto sento gridare il mio collaboratore era andato dopo la libreria sento uno dei giovanotti gridare in maniera fortissima chiamo la polizia e vedo Maurizio che viene verso di me grondante di sangue che evidentemente aveva ricevuto una testata fortissima per cui poi è arrivata la polizia ha accertato i fatti come si erano svolti e abbiamo accompagnato il Maurizio al pronto soccorso gli hanno dato 10 giorni di prognosi. Adesso sulla vicenda si attendono gli esiti dell'informativa che la polizia fornirà alla procura della Repubblica di Campobasso.